Musica 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 Te lo vediamo di buon bambini, ho te dei giorni di Time Out. Ho il Time Out. Non sei papi di buon baseball camp che dovete omologare di l'anno 25 pa' 29 di Juli Nettanky Leonard. Nossi invitato qua da signor Maximilian Irving che è il motore tras di Aruba Baseball Camp che lo tommo lugga Iuli 25 pa' Iuli 29. Non sto conversando con signor Maximilian Irving Te lo vediamo e grazie a tutti con noi Sono con signor Maximilian Irving. Maximilian, buon bambini nel nostro programma di Time Out Javi. Di onde è l'idea che nasce, Maxim? Buon, come coach e tata di un peloteiro ma riparare per il hobby camping però non c'è un camp enfocato per il baseball e mi dici di try it out E campi non c'è ancora tanto tanti per drive? Si. C'è qualcosa che non ti piace non c'è ancora tanto ma riparare per il baseball ma riparare per un solo deporte e per un periodo più lungo un giorno solo di campi Quanti giorni ti piace? 5 giorni. 5 giorni? Si. Di quanto ora per quanto ora? Di 8 giorni, per un giorno di tardi è pieno di baseball è pieno di baseball E quanti giorni per arrivare? Tu che cosa farei? Mi puoi essere il hobby Carmi una volta che ci trovano cinque minuti e si ci trovano 60 E' in cui 60 non ci si puoi più E' un camp che è per fare quel notch di baseball Se vi senti in il hobby Ma non c'è molto i mismo noi ci siamo più disziati e ci sono i 5, 6, 7, 8, 10, 20, 20. Ci sono i coach che ci sono aiutati, che ci sono aiutati a noi, ci sono i tutti i nostri amici, e ci sono i quali i nostri amici, e ci sono i quali i nostri amici, e ci sono i quali i nostri amici. E chi è il coach? Mi sono i volontari di aiutare, con Gianca Insele, con Conrad Orman, con Brian Larmoni, e con Carlos, un cubano, che ci sono i nostri amici. Ci sono i 5 posiões clave, e ci sono i 5 posiões clave, e ci sono i 5 posiões clave di béisbol, e ci sono i 7 posiões clave di béisbol, e ci sono i poteri copriati durante la settimana. Ma c'è chi è chi è chi? E ci sono i tassi, ma c'è chi è chi ha organizzato béisbol, ma non c'è chi si basta, ma c'è chi è la categoria di béisbol, ma c'è chi ha i trattori di ciasc, come da bloc, come da recif, ma c'è chi è uno ciasc profissional, Abbiamo trovato la gente per aiuta, il knowledge, il Brian, ci siamo molto interessati a tutti i giorni che compro il ketchup. Ora non lo so, compro il lanta, tirano le balle, che si tratta di acqua. Questo è quello che ci siamo interessati. Ci siamo interessati a tutti i giorni? Sì, ci siamo interessati a tutti i giorni che compro il ketchup. Ci sono i giorni, ci sono i giorni. Ci sono i giorni, ci sono i giorni, ci sono i giorni. Quindi, ci sono i giorni, ci sono i giorni e i giorni che non ci sono i giorni. Vi sono i giorni che ci sono i giorni, che non è quanto riguarda. Ci abbiamo davvero dei giorni che abbiamo fatto dimsi di materiale. Ci sono i giorni, che fanno il campo e le scopo dal meterso in effetti. Questo è proprio dall'esplastimento. e invece non mi piace, non mi piace, non mi piace. Grazie a tutti, grazie a tutti, e grazie a tutti, con Maximile Irving. Te lo direi anche perché conosciamo tutti con Maximile Irving, di Arromba Baseball Camp. Maximile, mi piace di capire lo che hai già detto nella prima parte, di quello che hai già detto, dedicati completamente a béisbol, ma non vuoi un crash? Si. Sì, sì. Sì, sì. Si non c'è qualcosa che ci sono, ci sono stati trovato il schedule, di stretching, di running, e ci sono stati un break. Non c'è un crash, ma non c'è nessuno che ci sono che ci sono stati di baseball, che ci sono stati grandi, che ci sono stati aiutati, che ci sono stati volentieri, che ci sono stati un schedule che ci sono stati, che ci sono stati, ci sono stati che ci sono stati che scopri da faccia, ci sono stati che ci sono stati e non c'è nessuno che ci sono stati a fare il senso, ci sono stati anche a fare per questo ma non c'è nessuno che ci sono stati a fare il senso del senso. Di dove vai devi? Come un sportista, come come un sport, come un sport, mi piace molto, mi piace molto aiutare il bicello, e io ho fatto una piccola, una piccola, una piccola, una piccola, e io ho fatto 2 anni, ho fatto un pipeline, e ho fatto un anno che ho fatto, e ho fatto un anno che non ho cercato, e ho fatto un'argomento con la gente, e ho fatto un'argomento per non sopportare, non so s'aiutato, ma devo lanciare l'argomento ora. Tremendo, tremendo. Ma ho detto che non ho fatto un piccolo, il piccolo è stato un piccolo, secondo me è stato un piccolo. mi sono cubano, mi sono riusciti molto in un sacco, come ti sono pizzi? 3 anni di pizzi? 9-10 anni come si pizzi? 9-10 anni come si pizzi, sì. In ambas di 20 anni, 20 anni come si pizzi? Sì. A volte il tuo vecino è un meccanico che compa, come ti fanno il truppo. Quando hai un po' di un po' di un coach, non ti ha raggiunto il tempo del suo trening, ma non ti ha raggiunto il nostro trening per 5 giorni, per il tempo non lo so. 9-10 anni come si pizzi? 9-10 anni come si pizzi. Quindi è automaticamente si pizzi il cuore dei sci. Quando hai il corredore nelle scie, che ora hai sale in un po' di prima base, che ora hai il corredore nel secondo. Ma c'è un momento che pizzi non può andare in un po' di prima base. No. Se un po' di 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 un po'. E' una cosa che ci credo è molto importante, però il nostro enfasizio è di avere divertimento. Perché oggi è qualcosa di divertimento, è qualcosa che mi sento molto bene, non mi sento ancora di grita, se la balla c'è, almeno è attento di fare un fly ball, è attento di fare un rolling. E ora che è 30 mi camp, il giorno 25, ora che è arrivato il giorno 29, vorrei farmi dire a cui qualche boccia, quando ti ho messo, e pensano, wow! Ma c'è un problema di uno, per il bambino e il suo approccio, il suo approccio, il suo approccio. Il mio approccio di commits, sul tipo di, il suo approccio di sottotitoli, di essere torato a fare un sabato, non c'è nulla, ma anche tra le migliere, non c'è nulla. Questo è un bel tipo di valore che è indietro rimando tutti i nostri impulsivi cli. Mi dispiace di fare un tempo per fare da me. Il béisbol è speciale, un deporte con una disciplina e un ruolo che è un hobby che si tratta di un liceo per il béisbol. Il béisbol è un béisbol che non tratta di un béisbol, ma non tratta di un béisbol. Il béisbol è un béisbol, ma il béisbol ha un hobby, ma il béisbol ti ha un béisbol. La terveza fine e il béisbol dice che io responsabilmente del futuro different. Il bote un leader non per il futuro di Aruba e ho deciso di un cambiamento al dsoe ma non fa partie di un güç. Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È un hobby necessario. Sì, sì. E ho pensato, e ho pensato, e ho pensato, a tutti i Yamami, che sono stati ben fatti. È un po' di più. 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 E quando ci sono stati ben fatti, non ho bisogno di più. Quando ci sono arrivati, e ora ci sono arrivati a fare un lavoro. Ora ci sono stati divertenti, e se ci sono stati benvenuti, e ci sono stati benvenuti. Quanto per te cobrano? Per 5 giorni. Ci sono stati facendo t-shirts, patchi. Torni, Ci sono stati, a tutti i ragazzi, e ho stati bene, e poi ci sono stati, poi ci sono stati di baseball. È un po' di più. Ci sono stati veramente diverse, con banners, con flottos, e mi sembrava qualcosa di più importante che l'anno prossimo giorno veniva? È evidente, tra 5 e 10 anni, 25-29 anni ho avuto un camp di baseball in Taki Leandro, davanti di Misa, Juan Pablo 12, non mi sembrava andare all'interno, per 5 giorni ho avuto una preparazione di livello. E per me, se ci si non vuoi, se che non si può essere un programma di livello, potremmo a presto di più, a costa, magari per il motivo della lotta daer, a circa del club, perché qui ci sono sicuri che non ci sono daerre, e se non ci sono daerre, e se non ci sentirebbe così, non può essere capace di fare attaccare al club. E per questo non ci sono così, e perciò il nostro bianco dell'altro, perciò il bianco, Per bene, con una tremenda idea, mi ti aspira a tu grazi di Axe a Bavro. Per vedanti e... Ma tu vai tena dimmi. Qualche cosa... Un par di dia per me non sta chiamando a Bia Deng. Si, si, si. Ok? Ok. Thank you. Thank you.